Comunicazione in tempo di crisi, coronavirus, prima fase, comunicazione sanitaria, si è concentrato un po' tutto su quello, credo che ne sia parlato tantissimo, ne immagino che se ne sia parlato anche in questa sede, in questo studio. Quello che si è aperto in questi giorni credo sia la seconda fase, purtroppo dobbiamo attenderci il peggio perché adesso comincia la comunicazione sul lato economico, sugli effetti economici del coronavirus e credo che tutti si siano resi conto rapidamente che qui le cose cambieranno perché se sulla parte sanitaria la politica è stata tutto sommato abbastanza indietro, qualche critica, qualche piccola ma tutto sommato garbata critica al governo, appena si è aperta la comunicazione sul lato economico le critiche sono saltate fuori in modo diretto e siamo tornati all'aggressività che ha caratterizzato governo e opposizione nel periodo precedente la crisi da coronavirus. E qui credo che è quello su cui ci misureremo adesso, ci misureremo anche perché non è solo un problema così di annuncio di provvedimenti, è proprio un problema degli effetti che la comunicazione sugli aspetti economici avrà sui comportamenti nostri come cittadini con il rischio che questi comportamenti diventino ancora più ansiosi e aggravino ulteriormente la situazione. Per ora l'impatto economico è stato molto ampio ma tutto sommato molto focalizzato su alcuni settori, in termini di domanda tutto il settore turistico, fuori casa e un arresto del consumo di beni durevoli, però questo potrebbe riprendere abbastanza facilmente se la crisi sanitaria finisse, molto diverso il discorso se invece la crisi sanitaria fosse seguita da una crisi di natura economica, in questo caso il problema verrebbe, si avviterebbe, cambierebbe di natura, significherebbe disoccupazione, calo dei consumi e quindi difficoltà per tutti.